buongiorno ad abiettivo news oggi 14 maggio santa mattia apostolo e della festa della mamma la festa della mamma è sempre la seconda domenica di maggio in origine la data era fissa e cadeva l'otto maggio ma fu modificata per ragioni sia commerciali sia per semplificare i festeggiamenti e rendere più facilmente accessibile la festa a tutti curiosità nel nostro paese la festa della mamma fu celebrata da otello migliosi la seconda domenica di maggio nel 1957 primo in assoluto dell'inizio a questa festa nel borgo di tordibetto otello migliosi è uno sacerdote del clero della diocesi di assisi molto stimato e grande e studioso che ha compiuto molte opere per la chiesa nel 2006 al decennale della sua morte il comune di assisi è intitolato la piazza di tordibetto alla sua memoria grazie a tutti grazie a tutti